la vergine di guadalupe il codice dell'amore di dio in un tempo in cui nell'europa occidentale milioni di fedeli lasciavano la chiesa cattolica entrando in quella protestante la vergine maria appare in messico a un indio di nome juan diego il numero di conversioni conseguenti a questa storia in cui la protagonista è la madre di dio bilanciò le ferite alla chiesa di suo figlio che avvenivano costantemente nell'europa continentale la storia dell'apparizione della vergine guadalupe fu il grande impulso per la conversione delle americhe ma è ancora oggi per tutti noi una grande lezione di evangelizzazione secondo il più antico resoconto scritto in outl da nican mopua la vergine di guadalupe apparve il 12 dicembre 1531 a guandiego consegnandogli un messaggio per il vescovo juan de zumarraga la richiesta di maria era la costruzione di un nuovo santuario in suo onore in cima alla collina del tepeyac e proprio in questo luogo che la vergine di guadalupe fece crescere delle rose ricordiamoci che era inverno e chiese a guanito il più piccolo dei suoi figli di trasportare le rose dalla sua tilma al vescovo fu proprio quando guandiego consegnò le rose al vescovo che l'immagine della vergine impressa sulla tilma dell'indio fu scoperta questa tilma era fatta da fibre d'agave che normalmente durano al massimo vent'anni tuttavia oggi la tilma miracolosa con la sua incredibile immagine della vergine maria è rimasta intatta nel suo stato originale da 500 anni per gli indigeni era molto importante il linguaggio dei segni e i loro codici che venivano usati per comunicare santa maria di guadalupe viene a ed evangelizzarci e viene per portarci cristo attraverso linguaggio universale dei segni secondo gli esperti l'immagine della vergine di guadalupe ha un significato particolare l'immagine della vergine guadalupe è quella di una ragazza messicana indossa una tunica rosa a manto turchese dal bordo dorato decorato con stelle a loro volta dorate le sue mani sono giunte e circondata dal sole ed in piedi sopra la luna che è sorretta da un angelo la vergine di guadalupe è un'icona della fede cattolica nel cielo apparve poi un segno grandioso una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi sul suo capo una corona di 12 stelle era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto apocalisse 12 1 2 la vergine di guadalupe si trova in piedi davanti al sole perché lei è la madre della luce del mondo i messicani a quel tempo adoravano il dio luizzi lopoctli il cui simbolo erano i raggi del sole e anche il dio della notte simboleggiato ovviamente con la luna questa donna in piedi davanti al sole e sopra la luna voleva significare per i messicani che era più potente dei loro falsi dei il mantello turchese della vergine simboleggia per gli indiani la regalità e la verginità e l'angelo ai suoi piedi la nobilità poiché solo una regina può essere portata sulle spalle il manto è decorato con una brillante costellazione nel 1980 gli studiosi mario rojas sanchez e juan homero hernandez i lescas studiarono queste stelle e scoprirono che la costellazione presente nel manto della vergine è la stessa della mattina del 12 dicembre 1531 ovvero del giorno in cui apparve questo significa che maria è la regina dell'universo il volto della madonna è quello dell'angelo sotto i suoi piedi è quello tipico dei meticci le persone nate dalle unioni con gli europei dopo la scoperta dell'america questo mostra come la fede cattolica sia per tutti la vergine ha uno sguardo affabile rivolto verso il basso verso coloro che la mirano gli dei indigeni venivano tradizionalmente dipinti con uno sguardo inquietante diritto verso gli spettatori quali conseguentemente ne venivano intimoriti la vergine di guadalupe guarda invece verso il basso ma verso di noi per ricordarci che l'amore misericordioso di dio è per tutti gli uomini per questo dice a juan diego non sono forse io tua madre la madonna è incinta e la cinta che le cinge i fianchi simboleggia la sua verginità perché lei è la sempre vergine madre di dio il fiore rappresentato all'altezza del suo grembo per l'indigeni significava sempre in movimento e l'infinito questo significa che lei è la madre del dio eterno la vergine è in piedi sopra la luna che è usata dall'uomo per calcolare il tempo e questo significa che lei è fuori dal tempo risiede infatti nell'eternità l'angelo sotto la luna ha tre ali colorate simili a quelle di un'aquila che simboleggiano la fondazione del messico molti scienziati hanno analizzato l'immagine della vergine guadalupe e sono tutti arrivati alla stessa conclusione dicono che si si tratta di un'immagine archetipa cioè non è stata realizzata da mani umane mentre gli esperti di arte la considerano un lavoro realizzato prima del 1531 ma nella creatività dei più grandi artisti rinascimentali né nel talento dei restauratori è mai comparso un uso dei colori e una tecnica così affascinante come in questa immagine è un lavoro che cresce in fascino fama e devozione per il suo emiratore per coloro che guardano a lei ricordandosi le sue parole non sono forse io tua madre la santa madre chiesa è intervenuta nella storia della vergine guadalupe nominandola sotto il pontificato di giovanni paolo secondo patrona delle americhe e patrona di tutti i bambini non nati fissiamo ora lo sguardo sulla vergine guadalupe chiediamole una protezione speciale in quest'anno della fede in modo che lei che la fontana della fede possa rinforzare la nostra fede e quella del mondo intero santa vergine di guadalupe aumenta la nostra fede grazie a tutti